Musica Amici della Palacanestro Mantovana e soprattutto amici delle Mayoners, benvenuti al consueto appuntamento con i giocatori e allenatori da playoff. Abbiamo qui questa sera come gradito ospite, vedete già comincia a ridere, Diego Savazzi. Diego Savazzi che oltretutto rappresenta un po' l'eccellenza dei giocatori mantovani, soprattutto per i suoi trascorsi, avendo giocato tanti anni in Serie B e anche qualche apparizione in Serie A. Ciao Diego intanto. Ciao e grazie per l'invito. Diego parliamo adesso, al di là dei tuoi trascorsi così, andiamo un po' sulla stagione che stai facendo a Cortatone, soprattutto dopo la partita di ieri finale per accedere alla Serie C Silver, che per Cortatone sarebbe entrare nella storia del basket mantovano, con la vittoria che avete ottenuto ieri sera contro il Malaspina a Milano. Che partita è stata Diego? È stata una partita bella, secondo me una partita giocata con testa e soprattutto con un approccio giusto, nel senso che non eravamo né troppo carichi, forse perché la formula della prima gara che fai fuori casa magari un po' ti alleggerisce, ma allo stesso tempo siamo riusciti a stare in partita fino a 5 minuti alla fine e poi siamo riusciti proprio a dare quel graffio in più che ci ha portato poi, negli ultimi 3-4 minuti, a gestire e a portare a casa la partita in un campo che obiettivamente non era proprio semplice giocare. Diego, al di là delle ottime prestazioni tue e di Moreno in fase realizzativa, notizie che arrivavano appunto da Milano dicevano anche che la squadra del Malaspina è stata imbrigliata con una difesa all'ultimo momento, inventata trazzi, una trea zona e due uomo, con Hazan e l'altro ragazzo croato che hanno fatto impazzire un po' i loro tiratori e li ha fatti andare fuori il ritmo, fuori di testa quasi, diciamo. Ma sì, insomma, conoscendo Stefano, come lo conosci anche te, non lascia niente al caso, quindi lui aveva già visto altre partite di semifinale di Malaspina e appunto ci aveva parlato proprio dopo l'allenamento di finitura, quindi il pre-partita, senza provare niente, a una possibile match-up, box in one, insomma, poi metti la giù come vuoi. E effettivamente poi quando l'abbiamo improvvisata proprio senza provarla, ha portato i suoi frutti anche perché loro, insomma, a livello proprio di equilibri e di gestione non è che siano irresistibili, ecco, quindi è proprio una cosa che ha portato i suoi frutti dal punto di vista che si sono trovati completamente spiazzati forse. Come dicevo con Stefano, logicamente le vostre partite quando ci sono, tra virgolette, i senatori che girano a mille riescono a trascinarsi anche tutti i giorni di belle speranze che avete voi in squadra. Difatti non a caso è venuta fuori una mega partita anche di Barotta e un'ottima partita anche, riscritta partita di Tosi, oltretutto da notizie avute anche da Stefano stesso, mi ha detto che i lunghi questa volta hanno fatto il suo oltre a fare 13 punti sia Gorni e l'altro ragazzo croato, hanno fatto proprio il padrone dell'area, soprattutto in difesa. Sì, ma la Spina è una squadra che attacca in un certo modo e difende in un altro, nel senso che non hanno questa coerenza di un assetto difensivo standard, quindi sono partiti molto larghi con questa pressione a tutto campo per ovviamente mangiare dei secondi e impedire poi anche a Maxi di gestire con più tranquillità le varie situazioni. E quindi ci trovavamo proprio a dover attaccare una squadra che era completamente larga, più o meno non dava riferimenti perché erano abbastanza scollati tra di loro e quindi su certe dinamiche, su certe situazioni il lungo poi si trovava sotto canestro e aveva proprio dei tiri liberi e loro sono stati bravi proprio a concretizzare queste situazioni qua che poi le hanno fatti entrare in partite e sono arrivati poi alla fine tutti con lo spirito giusto proprio anche nella gestione. Adesso Diego giovedì, su forse emotivamente, anche se giocate in casa, sarà una partita difficilissima perché avete la possibilità di chiudere e di raggiungere questa benedetta promozione in Serie C Silver. Quindi anche giovedì che partita la troverete mentalmente? Siete già preparati o cosa ti aspetta insomma giovedì? Ma io penso che vedendo un po' come è andato l'anno scorso e con i ragazzi che come ripeto per l'ennesima volta sono tutti ragazzi intelligenti e sanno ormai gestire anche se sono giovanissimi tutte queste dinamiche qua sicuramente sarà una partita con tanta pressione perché penso che ci sia tanta gente che ci viene a vedere sia perché ce lo siamo guadagnati ma soprattutto perché anche una società così giovane ha creato un entusiasmo dal settore giovanile a tutto l'indotto che cerca di coinvolgere che porterà tanta gente al palazzetto dal punto di vista dei miei compagni e mio sicuramente sarà una partita da impostare allo stesso modo di quella che abbiamo impostato a Malaspina nel senso dobbiamo fare il nostro dal primo minuto non mi sembra una squadra cattiva tra virgolette o che provochi quindi dobbiamo pensare a noi come abbiamo fatto ieri e arrivare alla fine per poi ovviamente dare quel qualcosa in più che ci permette di fare questo passo che per Kurtatona diventa un passo veramente storico perché anche se è una società giovane però insomma una promozione è sempre importante fa entrare nella storia del Basque Mantuano Diego io ti ringrazio ci vediamo ci vediamo senz'altro giovedì al Pagla Sigla.com magari sperando di festeggiare grazie del tuo intervento scusa un'ultima cosa secondo te signor Armes Savazzi quando vede queste parole dirà cosa fai chi dipando in lì ci darà un bel voto o se no c'è il Gaiatar da fare ciao a tutti ciao